A me interessano i commenti. Dal mio punto di vista di ragazzo di vent'anni, questo è importante, dal mio punto di vista di ragazzo di vent'anni, tifoso dalla nascita del Tori in cambio di un futuro pur adioso con Red Bull, sacrificherei anche tutto. Mi dispiacerebbe non vedere la maglia granata in campo, però se queste cose possono cambiarci la vita e ti ritrovi sempre decimo, vi va bene, a me no, del resto in caso di un cambiamento radicale io mi sentirei più tifoso che mai. Perché a quel punto sarai davvero portatore di una fede della storia del mio club, la storia bisogna che andrò all'incampo. A cosa serve fare la maglia commemorativa di Superga se poi scendi in campo e fai prestazioni pessime contro squadre? Cosa serve inneggiare al Toro, al cuore Toro, se poi vendi quella che può essere la bandiera del club per 35 milioni? Ciò che rimane sempre al tifo del Toro. Però sinceramente a questo punto preferirei fare il RB Torino con la maglia bianca che vince e punte con il quarto posto piuttosto che il Torino FC con la maglia Granata che gioca con Rincon Regista e Gianpaolo Allenatori. Io dico subito che sono perfettamente d'accordo col signor. Bravo. Bravo. Sono perfettamente d'accordo col signor Cannone. Partiamo da Pappini, poi andiamo su la barca Peppino Sturdi. Vai, cosa ne pensi tu di questo commento mitico? Sono d'accordo su tutto. Sono d'accordo su tutto. Mario Cannone ci hai gasato. Vediamo un attimo. Peppino, sei d'accordo tu? Sì, sì, sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Lo invitai, però voglio farmi... gli ho mandato la... Peppino, scusa, la braccia su questo commento, sei d'accordo o no? Allora, per tutto questo, voglio baglia bianca? Per tutto mi ha fatto gasare troppo sto commento. Mario Cannone, io ti stimo, ti stimo. Già mi sei simpatico. Grande Cannone, io subito amicato. Grande Cannone, veramente un grande Cannone, grandissimo. Grande Cannone, m***a, l'hai sparata... Cannone, l'hai sparata giusta. Mi hai fatto gasare. E anche un po' gobera. E poi ti fanno un po' bagnare, sinceramente. Come, scusa, Matte? No, Mario Cannone è mio padre, ha letteralmente detto cose giuste. Ok, ok, esatto. Sì, qua diciamo che andiamo un attimo su... Siamo tutti d'accordo. Ok, ok, in chi sono d'accordo con Mario Cannone? Andiamo a vedere un attimo una serie di commenti. Vediamo un attimo alcuni commenti... Ecco qua, attenzione, Mattia Ciambella, il tifoso di Granata da Los Angeles, è stato più volte qua al Torocast. Vendere stemma, colori e nome sarebbe vendere i valori di cui ci siamo sempre vantati. Tra l'altro ho mandato il link a Mattia Ciambella, vediamo se entra. Solo che da lui è... Solo che da lui è... In America le cose sono diverse. È tipo è notte quello che è, non so. La nostra storia è la nostra storia e la nostra gloria, con l'accento. Ciò non toglie che bisogna ambire a sempre qualcosa di più, ma non bisogna snaturare quello che siamo. Però io ti rispondo un attimo, faccio rispondere a tutti voi. Se tu dici che bisogna ambire a qualcosa di più, è chiaro che bisogna snaturare quello che siamo. Dal momento che quello che siamo è la mediocrità più assoluta. Mattia Ciambella, tu come risponderesti a Mattia Ciambella? Cioè questa cosa dello snaturarci. Cosa vuol dire snaturarci? Ma esatto, c'è comunque fino a una certa, capisco comunque le persone che tengono il colore granata della maglia, però comunque se uno vuole ambire a qualcosa di più è giusto fare cambiamenti. Matteo ti chiedo, tre oggettivi secchi per Urbano Cairo? Ce ne sarebbero troppi, quindi mi limito a dire soltanto che se ne deve andare il prima possibile. Ok, ok. Papini, Papini non Carlo Junior, ma Tommaso. Il concetto di snaturare che diciamo a cui è inteso il sior Ciambella. In qualche modo ci snatureremmo se cambiamo il colore della maglia, posto che secondo me non lo cambiamo se arriva la Red Bull. Secondo me rispetto alle altre squadre come l'Ipsia, il Sarisburgo, il Leeds, noi già di nostro abbiamo il Toro, capito? Toro, Red Bull c'ha il Toro come simbolo e poi noi abbiamo il Toro. Per cui secondo me alla fine a livello di maglia e di stemma non cambieremo niente, l'unica cosa che si cambierà secondo me sarà il nome appunto, non ci chiamerò più Torino FC ma ci chiameremo Red Bull Torino. E poi in realtà non Red Bull ma RB Torino perché mi pare non si possa mettere il nome. Sì vabbè RB Torino comunque sia, è l'unica cosa che secondo me cambieremo perché maglia e stemma ce l'abbiamo già al Toro, secondo me non serve. Come in Formula 1, RB. Allora, Matteo, ma secondo te cosa intende Cassino? Intanto link in chat Cassino se vuoi entrare per spiegarti meglio non ho capito, ma in che senso il filosofismo? Ma questa è la classica polemica del tempo. Scusa vai Matteo vai. No, uno più che dire la propria sui social non è che può fare, mica siamo nella società del Torino per fare veramente le cose, noi uno espone le cose che pensa e boh. A meno che lui non si riferisca al fatto di agire, ma non penso, ma non penso, su cose diciamo estremamente pratiche, dove è, dove è, dove è? Che è quello che in effetti fa Marina Cismondi, perché in effetti Marina Cismondi ha proposto questa nuova cosa. Io la stimo Marina Cismondi per quanto io non è che sia totalmente un risente granate in tutto e per tutto, cioè nel senso ci sono delle cose che non, come dire, non avvallo, però a meno che Castino non si stia riferendo a questo, a questa cosa, no? Ma non credo che si stia riferendo a questo. Domenica 3 novembre, dall'ora è 13.30, noi ci saremo e tu, questo è l'esterno di grata per proseguire la contestazione. Se si riferisce a questo, ma io non credo, ci può anche aver ragione al momento in cui lui va, ma se no, ma se no è la classica accusa da parte di Castino, di chi dice, tu stai nella tua cameretta a parlare, ma che dobbiamo fare? Cioè nel senso è ovvio che siamo tutti nella nostra, in un luogo dove parliamo. Ma poi la comunicazione, io lo ripeto, la comunicazione è fondamentale. ho la maglia della Provercelli addosso e non posso morzarmi in pubblico, se no 20 minuti di segretto, ma no, ma guarda, guarda, ma alberto, signor Castino, noi si può anche presentare affetto nudo, come vuole, cioè nel senso io mi sono presentato con questa maglia stupenda, è solo una scusa, è solo una scusa Castino, in quanto pavido per questo pavidume che è imperversa, a Radio Granata a quanto pare. Chiaramente è una gag, questa è una gag. Comunque Castino, Villain Toro, comunque stavamo dicendo, proseguiamo un attimo qua, quindi i commenti che parlano di un cambio di colore, secondo me il Toro non cambierà assolutamente il colore della prima maglia, cioè secondo te, secondo voi cambierà, chi vuole prendere la parola, chi è che secondo, chi di voi pensa che il Toro cambierà il colore della prima maglia? Chi è che lo pensa con la Red Bull, con l'avvento di Red Bull? Nessuno di voi lo pensa? Ma non lo so. Cambieremo colore? Io non lo so. Io non lo so. Io non penso proprio che cambieremo... Cosa è sempre Granata? Aspetta, un'altra volta, vai, la Braca, poi i surdi. No, secondo me non lo cambieremo mai la maglia, il colore, sempre Granata. Il primo, la prima maglia intendo, eh? La prima maglia, sì. Ok, io ho un'idea di come può cambiare la maglia, adesso ve la dico, secondo te Matteo se arriva la Red Bull cambia il colore della maglia? Secondo e terzo, la prima non si tocca. La prima non si tocca, è una tua idea. Se si fa l'accordo, però non credo. Però aspetta, un conto è la prima non si tocca, inteso come tu dici che non bisogna toccarlo? No, secondo me non la toccano, secondo me non la toccano. Neanche secondo me. Tommaso e Pepino di questa cosa della maglia, tu hai già detto? Io l'ho già detto, l'ho già detto. Hai già detto, Pepino la questione della maglia? No, qua possa mai no? Ma bisogna vedere se si fa l'accordo. Non penso per l'accordo. No, no, ma nel momento in cui si... No, a posto che si fa l'accordo, a posto che arriva la Red Bull, secondo voi, secondo te, viene cambiato il colore della prima maglia? Ma io non credo per il fatto di storia, però è possibile che possa magari cambiare di qualcosina, però magari il colore rimane quello. Grazie della stima. Ma magari ne resta solo il blu e basta. Chi è Marat959? È un tuo amico, Matteo? No. Scusa, ma chi sei Carlo Junior? Alberto Cassino? Io ho detto loro di entrare. Frank Wark! Ok, comunque... Ah, forse Cannone. Ma sei Emilio Cannone che ha sganciato la bomba? Che ha sganciato la palla? Grande. Se sei tu, prossima puntata... Cannone Inn. Comunque, senza punto, non vengono in diretta. E lo capisco, in molti la pensano come te. Secondo me, ragazzi, se arriva la Red Bull, la prima maglia sarà granata con delle tinte, secondo me sarà tipo tutta granata, con tipo di non strisce, inteso strisce. Strisce sottili, tipo blu. Anche perché, scusate, in questo momento mi pare che abbiamo pure del bianco-nero sulla maglia, così tu JD. Se uno non si scandalizza per quello, a me del fatto che mettono delle cose blu, tipo laterali qua, mi va assolutamente bene. Non si scandalizza per quello. Esatto. Denis Monta, se accetti cambio maglio, cambio stemmo, cambio nome, non sei del toro. Allora, Denis Monta gli ho mandato una richiesta d'amicizia e se me l'ha accettata entra pure, grazie. Nessuno vuole un animato, ma se siamo tifosi granate perché ci sia trasmesso un valore sacrosanto. Quale? E non deve essere mai messo in dubbio. Il valore della mediocrità, forse. Nemmeno per soldi austriaci. Ma qual è questo valore? Scusa. Marina? Sei Marina Cismondi? Ah, sei Marina, sei Marina? Ah, ok. Pensavo, pensavo, ah, ok, ok. Sì, 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 sì. Stai facendo gli gnocchi. Quindi praticamente, appunto, ti piacciono gli gnocchi la Bracca? Buonissime. Ma come ti piacciono? Con il formaggio, col pesto, bianco, in rosso o con tipo la salsa barbecue? Dipende. Salsa barbecue. O il sugo, bianco. Io la salsa barbecue la metto su tutto. Mamma mia, oh. La Bracca di Orchinelli. Il pezzo da pepino che ti viene fame, eh? Come, come? No, dove andare in palestra, quindi. Mancora, dove andare in palestra, quindi. Chi è per la salsa barbecue sulla pasta? Tu la Bracca a salsa barbecue sulla pasta, no? No, no, no. O sugo, bianco, per me. Bravo, bravo, Simon. No, io invece sono uno schifoso perché la salsa barbecue la metto ovunque. Tu, Matteo, la salsa barbecue? Grande, grazie, Peppì. Tommaso, tu la salsa barbecue nemmeno. Ma no, Daryl, ma manco, cioè io sono stato in America e in Canada, ma anche lì mangia la salsa barbecue sulla pasta. Ma voi non avete quel gusto proprio dello schifo, dello schifo inteso buono, quel buono un po' schifoide. Gnocchi alla bava, gnocchi alla bava. Bava, grande regista del passato. I gnocchi con la rucola e le patate, la foggiana. Soffieghete, qual è il migliore, secondo lei, personaggio content creator, compreso possa mai. Cucina pasta, è bellissima. Cucina pasta, è bellissima. Cucina pasta, è bellissima. Grande Sofia, quando vuoi, le nostre porte sono chiuse. Ma Andrea, ma quando entrare in 98? Basta, ragazzi, è adesso veramente, dagli gnocchi agli gnocchi. Guarda, bebbino, come... Allora, io dico una cosa, qua la dico e la nego, Castino. A me la Red Bull fa schifo come bevanda. Ma forse, Matteo, ti piace la Red Bull? Sì, sì, buona. Ma sulla pasta la metteresti sulla pasta proprio? Eh, sarebbe da provare. Una pasta energizzata, sì, una pasta, troppo. Io la Red Bull la bevo sempre anche quando bevo. Cioè, Jäger, Jäger, Volker Red Bull. Jäger, Volker Red Bull è buonissimo. Anche la Volker Red Bull. Comunque, comunque, vediamo un attimo qua. Esatto. Liberia, liberia, le smozze. No, non sono compromessi accettabili, soprattutto per scopi commerciali. Ma perché trovi, ma tutto è uno scopo commerciale? Cioè, tutto parte da una questione commerciale. Nel senso, questo è un passatismo che non ci porta da nessuna parte, i valori. io non lo capisco sta cosa o perlomeno ho capito che alla fine per vincere bisogna passare da quello non si può fare altrimenti fanculo, passiamo da quello io fino a un mese fa, due mesi fa ero un po' più scettico un conto è un cambio stemma più tardi meno gradito ma volto a innovare il cambio stemma non è da poco un altro conto è un cambio stemma per piegarlo a scopi commerciali, quindi è una questione di concetto e vabbè, però sulla maratona c'è scritto solo per...